In un futuro imminente, ho il piacere di presentarle mia suocera Clara, mia moglie Michelle e mia figlia Silvia. Non puoi avere più di 25 anni. Due ore. È sempre costato un'ora. Il prezzo è salito. A piedi sono due ore. È meglio che corra. E il tempo è la tua moneta. Ora che facciamo? Rubiamo? Per rubare se è già stato rubato. In Time, dal 17 febbraio al cinema.